Benvenuti nella guida sul PEP Archive della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo cos'è il PEP Archive e come accedervi. Quindi vedremo le modalità di ricerca, avanzata e combinata. Per fare ricerche più specifiche vedremo quali limiti applicare. Infine analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter scaricare il full text. Iniziamo vedendo cos'è il PEP Archive. PEP è l'acronimo di Psychoanalytic Electronic Publishing. È la banca dati bibliografica più importante per la psicoanalisi. Contiene il full text delle principali riviste di psicoanalisi, di cui tre in italiano, oltre a più di 80 libri che sono dei classici della psicoanalisi, datati dal 1871. Complessivamente il database contiene più di 76.000 record, articoli, capitoli di libri, commenti, ecc. Gli enti che curano la banca dati sono l'American Psychoanalytic Association e il British Institute of Psychoanalysis. Accediamo alla banca dati in virtù dell'abbonamento sottoscritto dalla biblioteca con EBSCO. PEP Archive è indispensabile per psicologia e psichiatria, ma può essere utile anche a chi si occupa di antropologia, linguistica, infermeristica, fisiologia, neuroscienze e gli studi sulle donne. Grazie. 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 Grazie.